Il lavoro è un lavoro di 24 ore, nel quale si inserisce il lavoro, quello che chiamiamo professionale. In quel dibattito di qualche anno fa c'era un'elaborazione di questo discorso del lavoro delle 24 ore, dove si scopriva che il lavoro ha perlomeno 3 dimensioni e non è solo le 8 ore in fabbrica piuttosto che nello studio medico, piuttosto che nella grande finanziaria di Wall Street, ed è uno lavoro del pensiero e sappiamo bene che quando abbiamo dei cattivi pensieri non lavoriamo bene, questa è un'esperienza che facciamo tutti noi, se noi abbiamo dei, chiamiamoli cattivi pensieri, noi sul lavoro, quello delle 8 ore non giriamo bene. La seconda dimensione o la terza, se teniamo conto della prima che è quella del lavoro, il nostro compito, la terza dimensione è quella del lavoro di o per i rapporti e anche qui non sto dicendo una cosa particolarmente misteriosa, è un'esperienza quotidiana di tutti noi, se i rapporti non vanno bene, il lavoro non va bene, non necessariamente i rapporti che sono contenuti nel contenitore del luogo di lavoro, quindi tra colleghi o con gli ospiti eccetera eccetera, ma ognuno di voi sa che se è incazzato con la moglie, quando arriva in ufficio non sta proprio bene e quindi le 24 ore del lavoro diventano immediatamente tangibili, il lavoro non è quella dimensione piatta e monocorde che si limita agli orari contenuti tra i termini temporali del timbrare e il cartellino, ammesso che il cartellino esista, ma comunque 8, mezzogiorno, 2, 6 con le varianti possibili, no? E questa è un'esperienza che dobbiamo, penso, tutti riconoscere in noi e che riconosciamo chiaramente nei nostri utenti, perché lì allora si vede molto spesso che il problema non è il prendere questo e metterlo lì in modo sensato, ma il problema è che non c'è il pensiero, che non c'è la relazione per fare questo gesto, da lì tutte le nostre, i nostri dubbi, i nostri domandarci ma non dovrei essere più, trovare una strategia, non dovrei prendermi cura di lui, non dovrei lasciar perdere, non dovrei fare altro, no? Perché ci intervano, ma sono su un altro piano sono le stesse interrogazioni che sono le nostre, no? Quindi che cosa è il lavoro e che cosa è il lavoro delle 24 ore che comprende quello delle 8 ore? Mi pare che in queste situazioni quello che fallisce prima del lavoro delle 8 ore è il lavoro dei rapporti e del lavoro del pensiero, infatti se guardate i vostri utenti vi accorgete che molto spesso i rapporti sono andati male, i rapporti familiari, i rapporti con i colleghi, i rapporti con gli amici e di pensiero non ce n'è mica tanto e soprattutto non c'è un grande pensiero della possibilità del beneficio o della soddisfazione, no? C'è molto spesso una lamentela, c'è un riferirsi lamentoso e depresso alla propria incapacità, alla cattiveria del mondo, dei datori di lavoro, dell'assistente sociale che non capisce, un tubo, di tutta una serie del fato, della mamma che era cattiva insomma quando si era piccoli, per cui guarda qui che storia, tra l'altro non è neanche così falso, che possa andare così. Tutto questo è spesso messo lì e vi è messo lì addosso per spiegare, per spiegarvi, per darvi delle spiegazioni a un'inettitudine al lavoro, non sono in grado di perché è avanti la lista. C'è un altro pensiero cattivo attorno al lavoro e in genere intorno ai beni, è, e questo da secoli, che non ce n'è per tutti. L'idea è che noi viviamo in un mondo di penuria, questo è stato teorizzato, che ne so io, due, tre secoli fa, da un signore che si chiamava Malthus, che voleva fare già allora, l'idea era quella della politica natalista, per cui dobbiamo ridurre, perché non ce n'è per tutti. Le risorse sono limitate, le risorse del pianeta, le risorse, poi vedremo anche quelle personali. Allora che cosa succede del lavoro e di queste risorse? Che questo tipo di ragionamento, al meglio, quando è un pensiero di giustizia, di giustizia distributiva, che cosa distribuiamo? Distribuiamo la povertà. Se non ce n'è per tutti, distribuiamo la povertà. Quello che succede nella pratica è la stessa cosa dei fiumi di sangue di qui sopra. Alcuni vivono nell'abbondanza e nella sovrabbondanza, altri vivono nella povertà, i cui gradi di ferocia sono solo determinati dall'emisfero e dalla latitudine alla quale si trovano. Andiamo sempre a finire lì, il dire che non ce n'è per tutti vuol dire ultimamente che ce n'è solo per alcuni. Se il lavoro e il lavoro del pensiero e il lavoro dei rapporti parte dall'idea che siamo in qualche modo partiti male, che non ce n'è per tutti, che non ce ne sarà mai abbastanza per tutti, che l'uomo è qualcuno che nasce già sghembo, è chiaro che poi dopo quando noi dicevamo il lavoro delle 24 ore, il lavoro del pensiero, questo subisce un attacco e lo subisce nella cultura, nelle cose che noi tutti i giorni ci troviamo a leggere, a dire, a pensare, a discutere nelle 24 ore. Allora io dico che non si parte dalla penuria, che se si parte dalla penuria, come si è partiti ed è stata una decisione tutta teorica, non è mica stata una decisione presa sui fatti, le cose vanno male e le cose non ci vanno mica tanto bene, non voglio dire, basta seguire il telegiornale, leggere o parlare domani mattina con alcuni dei vostri utenti o magari con un vostro collega che non sta mica tanto bene. Allora perché dico che nella vita di ognuno, di ogni singolo soggetto si parte dalla ricchezza e si parte dalla salute? Nella vita si parte da un'offerta che precede la domanda, gli economisti ci dicono il contrario, ci dicono che la domanda precede l'offerta. Nella vita non è mica così, di fatti il nuovo uomo, il bambino quando viene al mondo non ha domande, è del tutto evidente che non ha domande e probabilmente fino a un certo momento non ha neanche una psiche. Quando incontra il seno di sua mamma, che potrebbe essere anche quello di una baglia piuttosto che un biberon, qui non facciamoci incantare dal naturalismo per cui il seno sarebbe meglio il biberon, tutte queste imbecillità che però mettono in crisi legioni di mamme soprattutto ai nostri giorni, viene risvegliato in quel momento lì da un'offerta e solo a partire da quell'offerta lì, cioè quando la pancia è piena diventa chiaro che quella era fame. L'offerta del seno rende chiaro che quello che tu stavi in quel momento vivendo era la fame e quindi è l'offerta che fa nascere il desiderio, è l'offerta che fa nascere il bisogno, è l'offerta che fa nascere la domanda e di fatti da quel momento lì il bambino è in grado di domandare e quindi esperienza di tutti i genitori è quella di capire che uno sta piangendo perché ti sta rompendo le scatole o ti sta piangendo perché chiede da mangiare o perché ha il sedere rosso, lo sappiamo tutti dopo un po' come va questa storia qui. Allora non si parte dal bisogno, il punto di partenza della nostra disistenza non è il bisogno, è un'offerta e quindi è una ricchezza che ci precede e che ci costituisce. La riuscita, e questo vale per il bambino ma vale per noi, la riuscita del lavoro di rapporto che è definito in quanto saper fare in modo che l'altro collabori alla tua soddisfazione. sappiamo che la riuscita di questa operazione è essenziale al lavoro delle 24 ore ma è essenziale anche al lavoro. E allora che cosa c'entra a quello che ci siamo andati dicendo col lavoro delle 8 ore e soprattutto col lavoro delle 8 ore dell'operatore sociale che non è lo stesso lavoro di sballare le balle di stracci che l'utente ha, è qualcosa di diverso anche se si fa lo stesso gesto, la stessa azione. Il lavoro, il posto dell'operatore sociale, quindi non il ruolo dell'operatore sociale che sa tanto di una finzione di scena. Leggevo su un vecchio coso di sociologia, cercavo questa parola ruolo e diceva un fascio di attese. Io non voglio essere un fascio di attese che altri hanno su di me. Questa è la definizione più concisa che ho trovato della parola ruolo. Ora a me non va bene. Qual è il posto dell'operatore sociale? E anche il posto di lavoro dell'operatore sociale è quello del soggetto che sa e se possibile lo sa anche bene che cosa sia la sua soddisfazione e che quindi sa fare questo lavoro di chiamare l'altro come partner nel concorrere alla propria di soddisfazione, al proprio arricchimento, verso, non so, anche alla propria meta, possiamo chiamarlo anche così. E solo in questo sapere, cioè saperne su di sé e sulla propria soddisfazione potrà essere in grado di entrare nel rapporto con un altro che a sua volta è soggetto evidentemente o per lo meno dovrebbe essere soggetto e quindi ambedure agire ai fini della reciproca soddisfazione. Su questo credo che non abbiate molta soddisfazione con i vostri utenti. Molti vi mettono in difficoltà su questo tema. Io credo che solo uno che sa che cos'è il lavoro può sostenerne un altro nel lavoro. Allora dove la mettiamo la competenza? Di solito quando si fa formazione interna, formazione degli operatori è alla ricerca della competenza e tanto frequente è la richiesta della competenza ma sì, ma cosa devo fare? Quali sono le tecniche per? Attenzione che non dico, non sto dicendo che questo non sia utile perché la capacità tecnica sicuramente serve e serve come, ma solo come seconda battuta, cioè la competenza non è nel senso psicopeda, socio, sanitario, queste cose qui, è competenza soggettiva di soggetto dell'operatore che ne sa qualche cosa a lui sulla sua soddisfazione. e quindi è meglio che l'operatore sappia questo, meglio per lui sicuramente. Essenziale che lui sappia questo è essenziale per l'utente perché solo in questo modo può essere sostenuto.